Tu mi dici se è una cosa normale questa, va, 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 birra in tutte le stanze, tra un po' oppure quando vado a cagare in bagno dentro il gabinetto mi ritrovo le cose di birra, qua ma tu stai scherzando? Ma se ti trovi la birra dentro il gabinetto? Ma tu stai scherzando che non siamo a casa nostra, ma almeno quando ti siedi ti ci trovi qui, cioè Ma non ti sembra normale che in tutte le stanze, pure qua nella spazzatura, metti a casa che qua non siamo a casa nostra, viene il titolare, viene qua, ci prende tutti per qualche regalione No, mi dispiace, va, 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 va per tutto, senza Svenza 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 SUV l'altra volta volevo bere un po' d'acqua non c'era solo birra che sta diventando pure è che sta attaccando pure a me sti pezzi, una viziata stai diventando va, 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 non finiscono più, guarda, guarda, possiamo andare a qualche discarica, i soldi ci facciamo a prestare bene, no, una volta le persone prestavano l'olio e ci facevano l'olio qua, penso solo birra, birra, no, meglio che me ne vado, ciao bacio.